Sbagliato. Grazie. Direi che, visto che la sala si è riempita, possiamo iniziare, anche perché poi cercheremo anche di fare un primo giro con i relatori che vedete qui e di dare qualche spazio anche a eventuali curiosità o domande che possano nascere. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro su qual è il valore dei crediti popolari che mette al centro, forse uno dei soggetti più interessanti del mercato finanziario del credito italiano, che è quello delle banche popolari, ho qui di fianco a me, chi le rappresenta tutte, perché rappresenta la più grande, ma rappresenta anche tutte le popolari, che è Carlo Fratta Pasini, perché le banche popolari sono forse rimaste l'ultimo soggetto ancora radicato in una storia che è lunga, perché credo che abbiano 140 anni. è nata in Germania e poi cresciuta anche nel nostro paese, che raccoglie anche tutta la storia e le culture d'Italia, anche quelle che sembrano scomparse, la tradizione cattolica, quella socialista e riformista, quella liberale. Ma soprattutto sono il soggetto finanziario più radicato sul territorio. Non è un caso se le banche popolari sono quelle che più assistono nel credito, nello sviluppo, le piccole e medie imprese, che sono il nervo dell'economia italiane, sono il principale tessuto economico italiano. Se ricordo bene i dati, più o meno il 70% del credito erogato dal sistema delle banche popolari va al sistema della piccole e medie imprese. Siccome il sistema creditizio ha avuto profonde e radicali trasformazioni quest'anno e ha toccato anche il mondo delle popolari, introducendo domande, introducendo temi nuovi, portando anche fra di loro quello che è accaduto a quasi tutte le grandi banche italiane, cioè ad aggregazioni, a semplificazione del loro quadro. Il loro numero si è anche molto ridotto. Ci sono delle banche popolari, almeno due, che stanno tra i principali gruppi bancari italiani. Hanno cominciato a fare tante cose, a fare cose che sono anche un po' lontane dalla loro storia, che sono oggi oggetto di discussione, se è giusto che facciano, se è giusto ritornare a non fare, separare dall'attività principale, perché, come abbiamo potuto vedere, soprattutto nell'ultimo anno, anno e mezzo, lo sviluppo è stato notevole e le conseguenze di questo sviluppo ci sono anche state, non tutte positive. Abbiamo vissuto, questo è l'anno della grande crisi dei subprime, abbiamo avuto anche delle crisi, chiamiamoli degli scandali finanziari, che hanno anche toccato il mondo delle popolari e tutto il mondo del risparmio in generale. C'è stato il caso di Tallis, che in qualche modo toccava le popolari. Insomma, di tutte queste cose parliamo oggi, perché abbiamo poi i personaggi che meglio possono affrontare questi temi e dare risposto alle domande che stanno emergendo su questo mondo. Ne parliamo innanzitutto con Carlo Fratta Pasini, che a parte raccontarci che cos'è oggi, in generale, il mondo delle popolari e che tipo di rapporto hanno con l'economia del territorio, può anche affrontare dei problemi che poi affronteremo con Casero, qual è il loro futuro, qual è la trasformazione, la discussione sul fatto che chi oggi è azionista mette i propri soldi nel capitale di una popolare e poi può pesare relativamente sulla propria conduzione, sulla propria gestione. Do la parola innanzitutto a lui e poi faremo un giro tra tutti e vedremo di far nascere qualche domanda. Io innanzitutto vi ringrazio molto di questa opportunità di essere qui con voi al meeting dopo qualche anno. Credo che sia un'opportunità per me personalmente praticamente importante, sia per toccare con mano la vivacità e la crescita del vostro movimento, di questa vostra iniziativa, sia quindi anche e soprattutto per vedere, per capire, per apprendere, per cogliere anche quello che è un elemento molto forte. Insomma, voi siete realtà, siete protagonisti, siete opinione pubblica, oggi siamo noi a dover parlare, ma credo che siamo anche qui per ascoltare e per cercare di capire e di comprendere. Mi ha dato questa opportunità anche di parlare un po' e di parlare di banche popolari ed essendo in qualche misura diventate le banche popolari a un certo punto del mio percorso un pochino la mia vita, la cosa più importante della mia vita, della mia attività professionale, lo faccio molto volentieri, insomma, perché credo che le banche popolari siano un'esperienza coinvolgente, un'esperienza importante, siano, se mi consentite l'espressione, una buona battaglia per gli uomini che si impegnano al servizio del credito popolare. Innanzitutto vorrei rispondere così, ma molto brevemente, descrivendo che cos'è il credito popolare, perché in Italia spesso, se ne parla spesso, ma molto altrettanto sovente, non è conosciuto, esistono vari pregiudizi. Darò quindi qualche numero, ma saranno pochissimi. Sì, innanzitutto il credito popolare è un movimento in crescita, no? Qualche uno si accennava prima ai 140 anni e passa, perché mi pare la prima banca, c'è anche il sindaco di Lodi, no? Altrimenti, spero di non sbagliare, mi pare 1864 la banca popolare di Lodi era prima delle banche popolari a nascere, e già a fine secolo erano 800, no? Quindi è stato un movimento molto, molto vivo. Ma dico, è un movimento in crescita, se noi guardiamo, per esempio, alcuni dati sono significativi, la quota di mercato a livello di sportelli negli 11 anni, 96-2007, passa dal 19 al 27%, nonostante alcuni intermediari in questo periodo di credito popolare si trasformino in S.P.A., anche intermediari importanti, penso a Bipop, piuttosto che a Danton Veneta, piuttosto che a Banca Agricola Mantovana. La quota di mercato sul totale dell'attivo passa dal 14 al 20%, quella sugli impieghi dall'11 al 23%, quindi è più che raddoppiata sulla raccolta dal 16 al 25%. Quindi stiamo parlando di un segmento che sta guadagnando quote di mercato all'interno del sistema bancario. Questo, credo, è molto importante, perché spesso si tende a presentare il credito popolare come una specie di reperto più o meno archeologico, un fossile sopravvissuto ad altri tempi del sistema finanziario ed economico. Non è così, è un sistema che reagisce agli stimoli, che reagisce agli stimoli del mercato e che soprattutto è riuscito a guadagnare quote di mercato negli ultimi 11 anni, quando sostanzialmente è stata poi aperta all'attività bancaria, è stata equiparata a un'attività di impresa a tutto tondo. Gli indici sono analoghi, sostanzialmente analoghi a quelli, diciamo, della media del sistema, dico gli indici di efficienza e produttività. La cosa significativa, certamente in questi dieci anni non è solo cresciuto il credito popolare, è cambiato perché come il resto del sistema creditizio si è concentrato. Gli stessi stimoli che hanno agito sull'insieme delle banche italiane hanno agito anche sul sistema del credito popolare. Non è stato un sistema chiuso, una foresta pietrificata, per usare, o una sotto foresta pietrificata, in questo caso un'espressione felice, mi pare, di Guido Carli con riferimento al vecchio sistema bancario italiano, è stato effettivamente un sistema vivo che ha reagito a questi stimoli. Do solo alcuni dati che credo che siano importanti per dare l'idea di come tutto sommato il grado di concentrazione raggiunto dal sistema delle popolari è analogo a quello che si è raggiunto, diciamo, a livello di sistema. Nel 1996 le prime tre popolari avevano meno, intorno a un quarto, per esempio, del totale degli sportelli. Oggi le prime tre popolari, se vediamo, totale di sportelli, totale dell'attivo, impieghi e raccolta, sono vicine a detenere i tre quarti dell'intero sistema. Quindi tre gruppi bancari popolari oggi hanno circa i tre quarti, corrispondono ai tre quarti, fanno quasi i tre quarti dell'intero sistema. Ecco, credo che questa è la dica lunga, no? Sul livello, partendo da una situazione undici anni fa, dove i primi tre gruppi facevano a stento un quarto di quella che era, diciamo, la dimensione del sistema del credito popolare. Quindi un sistema che si è concentrato, un sistema vivo, un sistema diversificato, perché se voi andate a parlare con tutti i miei associati, ognuno vi dirà che il suo sistema di organizzare il gruppo bancario popolare è il migliore e quindi è un sistema in questo senso anche, ovviamente, la democrazia economica comporta anche questo. Non è uniforme, è diverso, è variegato, anche in questo le strade attraverso cui ci si è concentrati i sistemi più o meno federali, le soluzioni organizzative che sono state trovate sono diverse, ma è certamente un sistema vivo. È un sistema che, come tutti i sistemi, è in corso in qualche incidente, in qualche errore, lo ricordava, credo, Franco Becchis all'inizio, credo che sarebbe sciocco, no? Fare finta di non... di far finta che questo non esista, ma credo anche un sistema che ha saputo sempre affrontare al proprio interno queste crisi e queste difficoltà, non le ha mai riversate sui risparmiatori, sui sottoscrittori, ha sempre affrontato e, diciamo, soprattutto in questo processo di concentrazione, anche banche che avevano delle... mostravano delle problematiche di rilievo, alla fine si sono integrate in gruppi bancari popolari dove è ritornata l'efficienza, dove è ritornata la crescita del valore, dove il servizio anche alle famiglie e alle imprese del territorio è tornato ad essere importante. Un ultimo punto mi piace sottolineare, le banche popolari, il sistema delle banche popolari attraverso la concentrazione è diventato... e la crescita presenta degli indicatori dimensionali diversi, ma non ha cambiato mestiere. Ecco, questo è un altro punto che credo Becchis ha sollevato. Non ha cambiato il modo di fare banca, qui parliamo di fare banca nel senso di intermediazione creditizia. Se noi vediamo negli 11 anni, per esempio, come è variata la quota di sportelli che sta nelle zone, diciamo, rurali, non dei grandi centri urbani o non della grande impresa, noi vediamo che il credito popolare sostanzialmente non cambia questa quota di mercato. Se noi vediamo la concentrazione nei crediti all'impresa, nei confronti delle taglie più basse, cioè impieghi fino a 2 milioni e mezzo, oppure fino a 5 milioni, troviamo una concentrazione che è ancora più che doppia rispetto alla media del sistema. Segno che evidentemente la focalizzazione, l'essere banche a maglia fitta, essere molto forti dove ci siamo e essere praticamente non presenti negli altri posti, essere focalizzati sulle piccole e medie imprese, sui distretti industriali corrispondenti ai nostri territori, questa è una caratteristica che non è venuta meno. Certamente le banche popolari hanno seguito evidentemente l'andamento, si parla di un'Italia dove la finanza è troppo bancarizzata, anche le banche popolari, come tutte le banche, fanno anche tante attività finanziarie, hanno cercato di cogliere tutte queste opportunità. Oggi è un momento in cui tutti ci stiamo rifocalizzando di più sulle attività, diciamo, chiamiamole tradizionali, credo che questa sia un po' una lezione, se volete, a livello globale, che colpisce e fa sanguinare molto di più chi si era spinto certamente molto più in avanti del sistema bancario italiano e nell'ambito del sistema bancario italiano forse le banche popolari a parità di dimensione sono state tra quelle che hanno meno spinto su attività finanziarie, diciamo, non core rispetto all'attività di intermediazione creditizia tradizionale. Quindi è un settore, per concludere, un settore che cresce, un settore che ha reagito agli stimoli di mercato cercando di continuare a fare il suo mestiere, ma per continuare a farlo in maniera efficiente ha accettato anche la sfida delle dimensioni proprio per poter avere costi in grado di renderlo competitivo con tutto il sistema bancario in generale. Un sistema diversificato, ma un sistema che continua a fare il proprio lavoro, continua a fare il proprio fondamentale servizio alle famiglie al territorio, direi con un successo che merita attenzione. Grazie. Prima di dare la parola a Graziano Tarantini, io però volevo fare un'altra domanda a Fratta Pasini, perché più o meno due o tre anni fa noi eravamo tutti presi da un dibattito che riguardava alcuni dei soggetti che sono stati citati, il caso Anton Veneta, il caso BNL. Poi ci sono tanti fatti che sono legati a quel dibattito, ma il dibattito centrale, che allora era la posizione anche della Banca d'Italia e del governatore, che era Antonio Fazio, era il rischio dell'eccessiva internazionalizzazione del sistema bancario su alcuni soggetti bancari. Lo rendo pratico pratico, perché così ci capiamo anche, perché ha qualcosa a che dire anche su quello che sono le popolari. Un caso come quello di Anton Veneta, che era una banca molto radicata nel territorio, con una storia lunga su quel territorio, la conoscenza delle imprese, delle persone a cui fare credito. Il timore era che arrivando un grande gruppo internazionale, che magari poi portasse altrove, diciamo, le leve di comando della banca, e in contemporanea, oltretutto si stavano trasformando le caratteristiche, quello che è stato Basilea 2, del modo di far credito con dei parametri più rigidi, toglieva la possibilità di servire un territorio che era la vocazione naturale di quella banca, cioè alla fin fine toglieva quello per cui quella banca era cresciuta, era stata negli anni. Quel rischio, al di là di tutto quel che è accaduto, era reale? È un timore ancora da avere sull'internazionalizzazione del sistema bancario. Allora, io credo che qui va tenuta distinta una cosa molto importante. Noi non abbiamo ovviamente nessun timore o nessun problema su quello che riguarda la nazionalità dei capitali che intervengono all'interno dei capitali delle banche. Credo che essere schizzinosi su questo sia difficile, soprattutto in un momento come l'attuale, dove vediamo che addirittura i fondi sovrani la fanno da padroni nel cercare di tenere in piedi il sistema bancario e finanziario più grande del mondo. Ma una cosa è evidentemente avere tra i propri soci azionisti dei fondi esteri, un'altra cosa è avere tra i propri azionisti di riferimento una banca estera, perché se si ha una banca estera questa prima o poi evidentemente tende in qualche misura a quella che si diceva alla filializzazione, cioè o ad acquisire controllo o comunque a condizionare le strategie della banca partecipata nel senso evidentemente di lasciare solo quegli spazi di crescita di un certo tipo. Io credo che in quel periodo, vorrei ricordare, a parte Unicredit, le nostre maggiori banche italiane avevano nel loro capitale di controllo quasi tutto una banca estera, Santanderne e San Paolo e Credi Agricola era determinante in quella che allora era banca intesa, il banco di Bilbao nella BNL e a BN Ambro, ancora prima di assumerne il controllo, era determinante in Anton Veneta. Io credo che la preoccupazione del governatore Fazio che se tutte queste posizioni fossero finiti in una presa di controllo da parte delle banche estere, credo che avremmo avuto un sistema bancario certamente vassallo o comunque un sistema bancario eterodiretto rispetto, diciamo, con conseguenze secondo me non piccole, soprattutto per un Paese come il nostro, con un'economia così diffusa e così diciamo decentrata come la nostra e così particolare a dover interloquire con banche che avrebbero avuto il cervello altrove e che avrebbero avuto nella testa e nei modelli di business dei sistemi economico-produttivi profondamente diversi da quello italiano. Sono successi due tre miracoli, no? A parte BNL che è diventata del tutto una banca estera, tutte queste altre banche oggi sono saldamente in mano ad azionisti italiani. Questo credo sia accaduto ma evidentemente credo che quel timore in quel momento potesse essere reale o comunque giustificato da una situazione profondamente diversa da quella attuale. Grazie. Io ho la stessa domanda però vorrei anche farla a Graziano Tarantini che probabilmente molti di voi conoscono perché tutti gli anni è qui al meeting e perché è responsabile area credito e banche della Fondazione per la Sussidiarietà e anche presidente però di Acros e quindi vive nel mondo delle popolari di BPM, in questo caso di cui anche consigliere. Sarebbe cambiato molto se oggi alcune, non solo BNL, fossero finite in mano di grandi gruppi stranieri. Cambia qualcosa anche sull'economia reale, sul servizio dell'economia reale. Avremmo avuto più conseguenze di quelle che si sono viste anche per la crisi finanziaria dei mercati internazionali. Secondo me, si sente? Secondo me sì perché, come diceva bene Frattapasini, io continuo la mia idea che le banche sono imprese e aziende ma nello stesso tempo sono anche un'infrastruttura. banche. Quando ci fu la questione di Anton Veneta, io ricordo le telefonate e le richieste di consigli su questo tema qui e rivolgevo sempre, facevo questa osservazione. Sappiate che quando si compra una banca, non si compra il capitale di una banca, ma compriamo anche all'attivo, compriamo il patrimonio di tante piccole e medie imprese. Dunque di conseguenza non è un fatto neutrale, quantomeno questo bisogna saperlo. Io credo che le sorti, se le banche italiane, se avessero come predominante il capitale di altri gruppi stranieri, la situazione sarebbe molto cambiata. Voi pensate soltanto al tema di tutta quell'attività ad alto rischio di tipo finanziario, che io non demonizzo, essendo uomo di finanza non demonizzo, però immaginatevi cosa sarebbe stato delle nostre imprese se avessimo avuto la partecipazione di grandi gruppi internazionali che in qualche modo vivono come logica, quella per un problema dimensionale di scelte, lì io non faccio una questione voglio dire di scelta ottimale, quella di vendere, di avere un rapporto con l'economia di tipo standard. Immaginatevi cosa sarebbe accaduto con tutto quello che c'è stato. Dunque non è neutra questa cosa qui. Inoltre, dunque per me la banca assume anche il ruolo di infrastruttura, anche se in qualche modo oggi è impresa a tutti gli effetti. Questo è il tema che mi stava a cuore comunicare. Non fanno un po' troppi mestieri diversi le banche oggi? Questo è un altro capitolo. Come diceva giustamente prima il Presidente Frattapasini, un merito che va riconosciuto dai popolari che in qualche modo non hanno minimamente snaturato il loro ruolo di essere banca, commerciale, dunque in termini di azione finanziaria pura, di tipo bancario. Ovviamente dentro questo noi non dobbiamo, non siamo in qualche modo fuori dal mondo e dobbiamo tener conto di quelli che sono stati i cambiamenti che sono intervenuti. Noi normalmente la storia del sistema bancario, dal 20 in poi, noi riflettiamo dopo un po' di anni quello che accade oltreoceano negli Stati Uniti e noi siamo arrivati col testo unico bancario a definire il modello di Banco Universale. Quando le banche andavano molto bene perché si guadagnava molto, perché gli spread erano alti, ci si un po' divertiva a far tutto. Questo ahimè con quello che è accaduto negli ultimi anni, con i tassi molto bassi, i margini ridottissimi, ogni unità del gruppo bancario ha dovuto portare, ha dovuto contribuire positivamente alla formazione del bilancio. E qui chi è capace deve fare un certo mestiere, chi non è capace non deve più farlo. Questa è la natura dell'attività che in qualche modo ha provocato negli ultimi tempi questo cambiamento. C'è un problema anche di tipo normativo che in qualche modo deve frenare quella che è la possibilità insita nei grandi gruppi di creare delle situazioni endemiche di conflitto di interesse. Questo qui è un problema di tipo normativo. Però sul piano aziendale sicuramente, voglio dire, divisionalizzare con specificità, professionalità che hanno natura e preoccupazioni di tipo diverso, questo secondo me oggi lo impongono i bilanci prima ancora che una filosofia su come debba essere o meno un gruppo bancario e come bisogna definirlo. Questo sicuramente va dato atto comunque alle banche popolari che hanno resistito molto, nonostante alcuni cambiamenti che il Presidente diceva prima. Un'ultima cosa, mi chiedo, per quanto ha detto il Presidente Frattapasini, c'è poco da aggiungere, di dire ma se è così, queste sono oggettività, dati, perché nel nostro Paese le popolari continuano sempre ad essere sotto esame. Si parla sempre di riforma da anni, come mai questo? Questo è un problema che in qualche modo dobbiamo porci. Perché per qualcuno si ritiene che sono incompatibili con il tema della quotazione e dunque possono avere cittadinanza solo se in qualche modo restano piccoli all'angolo, nonostante, voglio dire, questo protagonismo che è stato aggiornato, che dà dei risultati, dà dei benefici alla nostra economia, come mai continuano ad essere sotto esame? Questo qui, voglio dire, è una riflessione che un italiano medio deve porsi. Su questo io, voglio dire, ho delle risposte e soprattutto dico che il tema della democrazia economica e per quanto riguarda il tema della libertà del mercato in qualche modo bisogna guardare e avere anche opzioni di tipo diverso, senza per questo sfuggire a quello che è la logica dell'azienda, perché qualsiasi governance possa avere una banca, il profilo, voglio dire, dell'azienda bancaria deve funzionare. I costi incami, i risultati, il reddito lo deve dare ne più e ne meno. Siccome non è fuori da questa logica la banca popolare, le banche popolari non sono fuori da questa logica, perché qualsiasi cittadino la mattina si alza, oggi in qualsiasi piazza di italiano trovate 5-6 sportelli. Se qualcuno sceglie di andare a una popolare o un altro gruppo bancario non ha, voglio dire, coercizioni di sorta, dunque hanno risposto pienamente a quelle che sono le logiche del mercato. Però c'è un mercato più sofisticato che ritiene che le popolari in qualche modo rispetto a questo mercato più sofisticato che designa, sta delineando quello che sarà il futuro della modernità, dell'economia, le popolari in qualche modo devono starci però a condizioni limitate. Questo voglio dire è la questione che pongo. Ci sono problemi che sono ovviamente aperti e anche credo che sia dal 1970 che si dice facciamo una riforma delle popolari, perché un problema è quello della remunerazione del capitale investito, l'altro è di chi comanda in banca anche, cioè qual è il potere che poi gestisce la banca, perché dipenderà da caso a caso, ma alcuni casi di poteri particolari, penso ad esempio i sindacati e del potere che hanno avuto nella gestione della banca, anche in proprio, io credo che l'esperienza in cui è innestato Tarantini questa storia abbia anche avuto, no? Quello della popolare di Milano. Quindi ci sono dei temi obiettivamente aperti, però volevo soltanto chiedere una cosa. Il riferimento è stato alle banche finché hanno guadagnato, perché oggi le banche non guadagnano più. Così poi arriviamo subito a un signore che le ha pizzicate le banche quest'anno. Le banche per fortuna guadagnano ancora, per fortuna. Cioè il tema, siccome mi stuzzicava sul tema della Milano in particolare, ripeto, io sono, lo dico non perché devo difendere, voglio dire, la casa a cui appartengo. Però devo dire, lo ricordavo stamattina a un giornalista del Sole, negli ultimi anni la popolare di Milano ha fatto delle scelte veramente importanti. Se voi pensate, la situazione in cinque anni non è stata neutrale la nostra governance rispetto ai risultati ottenuti. Cioè non è che si possono soltanto additare o portare alla risalta dei media i temi che non vanno. Ci sono state anche delle scelte importanti, fra cui ricordo, siccome la popolare di Milano ha questa peculiarità di essere un modello partecipativo, ahimè, noi abbiamo avuto una modifica di un articolo dello Statuto che prevedeva la rimunerazione e la partecipazione agli utili e ai dividenti da parte dei dipendenti. Io ero molto scettico su quella modifica. Sono andato in Fiera di Milano il venerdì sera, si faceva fatica ad entrare perché c'erano veramente migliaia e migliaia di dipendenti e hanno votato qualcosa che andava contro il loro interesse. O meglio, si toglievano un pezzo. Io credo che questo qui sia stato un passo da incoraggiare. Dunque, da questo punto di vista, ripeto, anche per la Milano guardo quello che dicevo prima. Questo non vuol dire che non bisogna portare delle modifiche, dei cambiamenti che porteremo, laddove, secondo me, nel caso della Milano specifico, il sistema partecipativo deve avere la capacità di identificare il portatore di interesse del sistema partecipativo rispetto a quello che è il ruolo del sindacato, che sono due cose distinte. Se io oggi andassi in una piazza finanziaria tipo New York a spiegare il futuro della mia banca, se dovessi parlare che uno stakeholder importante sono i dipendenti, io non avrei problemi a difenderlo e ne faccio anche una questione di modernità. Io culturalmente non sono per il sistema partecipativo alla tedesca di tipo sindacale, io per cultura sono diverso. Diciamo, per usare un termine, per dare un'idea, un'etichettatura, sono molto più liberista, tra virgolette, però lì mi permetterei di difendere un modello, una peculiarità. Se uno mi dicesse, devi andare a spiegare che la banca è gestita dai sindacati, direi di no, con tutto il rispetto che copre il sindacato, perché il sindacato fa un altro mestiere. Se la Banca Popolare di Milano sa, in questo momento, ridefinire bene questo ruolo, secondo me ha avanti per l'ennesima volta una grande opportunità. E voglio ricordare una cosa, io quando ho fatto il master in finanza, in Bocconi, ho fatto legge, dopo mi sono specializzato in finanza, mi ricordo, il modello tipico della buona banca, non cito i nomi per rispetto, sicuramente non annoverava mai dentro una Popolare. C'era un modello, mi ricordo, quello è il modello. Se noi andiamo a vedere quello che è accaduto in Italia negli ultimi anni, chi ha apportato la struttura solida per fare questi grandi gruppi, sono state le bistrattate allora, perché venivano apportate come modello negativo, le case di risparmio e le popolari. Chi ha dato l'ossatura, patrimonio, per poter rifare, sono state queste. Voglio soltanto ricordare che in quel periodo, Caripro, insieme a Rebobanche, con una banca cooperativa di diritto olandese, era l'unica banca che aveva la tripla A in Europa. Queste sono state, in qualche modo, nella storia di Milano, la Banca Popolare di Milano nasce come seconda banca dopo la Lodi, l'anno successivo. In tutte le grandi questioni che hanno interessato Milano, sia di tipo bancario, per citarne una, Ambrosiano Veneta, che per quanto riguarda i crisi anche di tipo editoriale e industriali, lei troverà sempre come capofila nei salvataggi la Banca Popolare di Milano. Finiva il salvataggio, si sfilava, e altri dopo, nel periodo in cui dovevano raccogliere i frutti di questi salvataggi, non c'eravamo mai. Non si spiega perché. Se voi vedete la storia, dunque io per un milanese, quale in qualche modo mi considero oggi, non avere più una banca come la Popolare di Milano, quantomeno per riconoscimento storico, ne sarei dispiaciuto. Perché questi sono i fatti oggettivi, se si va a vedere. Dunque, al di là del sindacato, andiamo a vedere cosa ha prodotto in questi anni, voglio dire, l'intervento di una banca come questa sul territorio. Questo dopo vuol dire tante cose, apre altri dibattiti, eccetera. Però questo qui per fare un po' di giustizia rispetto alle cose che si dicono solitamente. E allora, adesso andiamo a capire perché, Luigi Casero, il nemico sono le banche. Quando si fa robinù da parte dei petrolieri, il primo atto di questo governo è stato una cosa che ha colpito il sistema bancario, forse in un momento un po' delicato, perché è vero che il sistema bancario ha guadagnato più di altri negli anni, ma forse questo era il momento più delicato. Sono nemiche? No, 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 non... Guardate, facciamo un ragionamento un po' più ampio, poi possiamo toccare anche Robin Hood, cioè Robin Hood Taxi poi è stato chiamato così, è una cosa molto particolare. Innanzitutto io voglio ringraziare gli organizzatori per aver fatto quest'anno al meeting questo incontro su questo tema, avermi invitato su questo tema che noi riteniamo molto importante, che è quello del credito popolare, delle banche popolari nel sistema finanziario italiano. E devo dire che è giusto che questo tema venga posto in questa sede, il meeting ha sempre avuto la libertà come uno dei temi fondamentali trattati al meeting e quindi da libertà a libertà di impresa, libertà di iniziativa. Questo porta al fatto che il sistema economico italiano, che è un sistema che come avete detto si basa sulla piccola e media impresa e nasce fondamentalmente da una grande libertà di impresa che porta da impresa a generare altre imprese, a far sì che un sistema di questo genere è un sistema che sta innanzitutto a livello mondiale, deve essere considerato e deve essere considerato per quello che è. Noi spesso per anni abbiamo visto il sistema anglosassone sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista industriale come l'obiettivo e quindi solo la grande impresa è un sistema più debole vedendo solo le debolezze delle nostre piccole e medie imprese a livello di competizione globale. Dobbiamo far sì che però questo sistema è un sistema nostro ed è un sistema che ha una forza italiana e quindi noi dobbiamo cercare di strutturare ciò che esiste intorno, quindi le varie infrastrutture e in questo caso chiamiamole insensuali infrastrutture finanziarie a questo sistema. Allora le banche devono supportare la piccola e media impresa e sicuramente le banche popolari per una serie di ragioni storiche e ragioni che stanno all'interno della cultura tipica della banca popolare riesce sicuramente a supportare di più la piccola e media impresa avendo un rapporto molto più diretto col territorio e con la piccola e media impresa che non la grande banca che invece ha un rapporto un po' più assettico, un po' più distaccato. Poi chiaramente parliamo di situazioni grandi, anche di grandi banche popolari e grandi banche, però la cultura per cui queste banche sono nate esiste ancora a livello di dipendenze, di dirigenti e vediamo, e questo lo dicono i fatti, che spesso le banche popolari riescono a supportare, dicevo meglio, lo sviluppo delle piccole e medie imprese che non le grandi banche. Quindi questa è una delle caratteristiche del nostro paese che adesso è una delle caratteristiche che deve essere salvaguardata e deve essere spinta. Questo assieme a un rapporto anche in questo caso molto più diretto e molto più stretto con invece singoli clienti, singoli risparmiatori che in Italia, che è un paese che non ha una grandissima cultura economica, spesso ha a livello di piccolo risparmiatore l'unico interlocutore finanziario, l'unico informatore di notizie finanziarie, lo sportello bancario e il funzionario e il dipendente della banca. Diventa fondamentale anche questo passaggio. Se voi pensate che una delle grandi difficoltà che in questo momento noi stiamo affrontando è la difficoltà del caro mutui, era la difficoltà e la difficoltà del caro mutui, e che buona parte di questa difficoltà è venuta per una scelta di scelte fatte in libertà dal risparmiatore, ma consigliate da qualcuno negli anni passati, capite quando sia importante il rapporto che deve avere la singola banca anche con il singolo risparmiatore, proprio per lo sviluppo del paese. Allora, in questa logica, noi dobbiamo cercare di salvaguardare anche quello esistente. Nello stesso tempo abbiamo un sistema di sviluppo di grande banche che, come diceva prima Tarantini, si rifanno fondamentalmente a un modello di banca anglosasso. Le banche popolari sono banche nate in Germania e sviluppate in Italia. Sono una cosa più tipica dell'italiana. Allora, in questa logica noi dobbiamo cercare di intervenire per salvaguardare e difendere, dicevo, questa esistente, ma nello stesso tempo far sì che questo sistema possa diventare più forte, ma possa nello stesso tempo superare tutta una serie di ostacoli che invece esistono sul cammino dello sviluppo delle popolari. Sono stati citati prima due esempi. Io ritengo che sia necessario e ci sia la possibilità per le banche popolari di svilupparsi, quindi non contesto, e anzi dico che è giusto che si sviluppino dal punto di vista territoriale, quindi che servano a sviluppare alcune aree territoriali ma possano crescere anche territorialmente. E quindi non do ragione a chi dice che la popolare deve rimanere legata a un singolo territorio, deve avere una forza all'interno di questo territorio, ma può benissimo crescere, perché diventando più forte e quindi crescendo può dare maggiori risposte alla propria clientela. Esiste però il problema che se questo genere di banca è una banca che deve avere questa grande dipendenza territoriale e un grande rapporto fra la propria governance e il proprio territorio e quindi esiste un sistema di controllo societario basato ad esempio sul voto capitale e basato sul fatto che ci sia una grande partecipazione dei propri dipendenti o dei singoli risparmiatori alla banca questo sistema va in rotta di collisione con un sistema di finanza estrema non dico estrema perché esiste in tutto il mondo però con la quotazione in borsa delle stesse banche. Il sistema della quotazione, il sistema bursistico va contro un sistema di controllo invece partecipativo e di ampliamento perché un'azienda quotata in borsa deve essere un'azienda che può comunque essere acquisita può partecipare ad acquisizioni più ampie. Mi si dice che esistono invece sistemi nel mondo in cui il voto capitale esiste anche per aziende contate in borsa penso che però questo non sia il massimo e noi non dobbiamo mirare a questo. Quindi dobbiamo andare a una riforma che cerca di individuare ed esaltare i punti di forza del sistema delle popolari e debba una volta per tutte certificarli proprio perché serve per lo sviluppo del sistema paese cercando però di indirizzarlo secondo un cammino ben preciso. E mi rifaccio a questo perché ritornando poi arrivo alla domanda di Robin Huttax ritornando al discorso della possibilità degli stranieri di acquisire le banche italiane. Mi è piaciuta molto la risposta che ha dato il presidente Fatta Pasini perché giustamente una cosa è una partecipazione all'interno di un sistema strategico come quello del nostro paese di capitali stranieri anche ampia e anche fatta da fondi sovrani o da capitale estero. Una cosa è che le principali banche del nostro paese siano acquisite e governate da banche di altri paesi. È una cosa completamente diversa e se usciamo dalle polemiche del momento in cui si erano mischiati fatti dolosi e fatti penalmente rilevanti a una battaglia di principio che era una cosa diversa. Vediamo che non è detto che l'estremizzazione della globalizzazione dei sistemi finanziari porta poi a dei fatti benefici nel paese. A tre anni di distanza noi stiamo molto preoccupati e siamo molto preoccupati per quello che è avvenuto e per quello che potrà avvenire nel principale sistema finanziario mondiale che sono gli Stati Uniti in cui un'estremizzazione di una serie di strumenti di finanza derivata ha portato al rischio di grandi banche degli Stati Uniti a rischio finanziario dello stesso paese. Quindi da questo punto di vista è necessario quello che dicevo indirizzare alcuni punti di forza che abbiamo nel nostro sistema finanziario verso un cammino ben preciso che è un cammino che cerchi di rafforzare le nostre imprese e rafforzare le imprese del nostro paese. Io penso che su questo noi dovremmo lavorare in una logica che deve essere una logica di riflessione e di presentazione di una riforma che, dicevo, esca un attimo dal contingente perché sennò rischiamo ogni volta di andare da un eccesso all'altro e dia veramente una buona riforma al sistema delle popolari. Sul discorso Robin, un tax. Ma la cosa è semplice. In un momento di grande difficoltà economica noi abbiamo come principale obiettivo quello di mettere a salvaguardia e di difendere i conti del paese. Dobbiamo mantenere l'obiettivo di azzerare il deficit entro il 2011 e di diminuire il debito. Nello stesso tempo non volevamo e non vogliamo aumentare la pressione fiscale sulle imprese che si trovano in situazioni di competizione mondiale e sui cittadini. In questo momento per far questo abbiamo dovuto intervenire su due settori che riteniamo essere in condizioni di monopolio o oligopolio nel paese. Il settore petrolifio che chiaramente era in una situazione molto particolare di monopolio e il sistema bancario che aveva un po' di plus diciamo un reddito superiore agli altri settori per una situazione che in questo momento non è totalmente aperta alla concorrenza c'ha un po' di oligopolio interno nel senso che esiste una certa difesa dei conti bancari. Quindi la tassa che è una tassa minima è intervenuta sui due settori quello petrolifero e quello bancario cercando di intervenire a livello di reddito per far sì che questa tassa poi non possa essere trasferita si spera non venga trasferita noi parliamo di tutto perché non venga trasferita poi nei passaggi più bassi a livello del signor consumatore perché questa è una delle accuse che ci hanno fatto e quindi noi col sistema bancario abbiamo fatto questa operazione e abbiamo fatto l'altra operazione di ridefinizione dei mutui a tasso variabile che possono essere trasferiti a tasso fisso questo in accordo col sistema bancario anche qui per alleviare un po' la quota mutui che incide sulle tasche mensili di ogni cittadino. Queste sono le tre operazioni fatte che stanno nell'ambito del discorso complessivo della finanziaria non c'è assolutamente una volontà di intervento pesante o di penalizzazione del sistema bancario ma la necessità di partecipare un po' tutti assieme a questo obiettivo di risanamento dei conti del paese che è l'obiettivo principale e che deve cercare di colpire tutti noi. Io dico l'ultima cosa voi sapete che uno delle in questo momento di turbolenza finanziaria una delle grandi punti di pericolo che noi abbiamo è un aumento dei tassi per un paese che ha il terzo debito pubblico al mondo ogni mezzo punto di aumento dei tassi incide pesantemente sulla spesa oltre che sulla efficienza delle imprese perché gli aumenta la loro possibilità di avere debito incide pesantemente anche sui conti complessivi quindi noi una parte della manovra che abbiamo fatto a luglio una parte non è enorme però una parte della manovra ce la siamo bruciata con quell'aumento di mezzo punto dei tassi che è stato fatto in sede europea grazie onorevole Casero allora mentre dico che chi vuole non faremo tempi morti ma facendo un altro giro ma se ha qualche domanda da fare può venire a farla poi qui sul palco non abbiamo ancora tantissimo tempo ma nel frattempo lo dico così chi vuole si prepara e può farla da quel microfono laggiù Casero ha fatto anche alcune provocazioni sul sistema bancario oltre ad aver fatto alcune considerazioni che fanno un po' capire come spesso andando avanti disegnando modelli passando gli anni un po' riempendosi di slogan più che guardando la realtà e poi le cose non funzionano perché la globalizzazione è stata una bandiera a tutti i suoi difetti la flessibilità nel mercato del lavoro sto prendendo dalla lontana è stata una bandiera che si è radicalizzata però poi può portare conseguenze perché poi la vicenda dei mutui subprime è anche legata a una situazione diversa dalla nostra che stava per diventare la nostra perché se si radicalizzava quello che è stato la legge Biaggi noi avremmo avuto nel giro di dieci anni sostanzialmente metà degli quasi tutti i nuovi assunti perché uno su due è così chiamiamoli precari a tempo determinato il che voleva dire che uno o non gli davi il mutuo non gli davi la possibilità di di acquistare una casa o ti prendevi obiettivamente un cliente più a rischio di altri se un mercato è costruito così il rischio è più alto e quindi poi bisogna inventarsi qualcosa per coprirlo poi insomma ci sono tante cose che se radicalizzate poi creano il problema quello che diceva lui però era anche una considerazione che tanti fanno sul sistema bancario il rapporto con la clientela poi sono nate tante associazioni di consumatori che mettono nel mirino le banche un po' sono state le nemiche le banche di questi anni le grandi banche ma in una eccessiva modifica della loro vocazione naturale nel fare troppi mestieri poi si capita anche di farli male ci sono a me è capitato tante volte di andare in banca faccio giornalista finanziario e di sentire quelli che dovevano dare i consigli sull'investimento lo sportello non sentire proprio gente che fosse preparatissima all'altezza di darli perché quella non era stata la loro funzione il loro mestiere per tanti anni ci sono delle difficoltà e così le popolari sono diverse dalle altre hanno subito meno questo rischio hanno un rapporto con la clientela diverso la domanda parte molto da lontano credo che così alcuni aspetti volevo rispondere alla domanda e anche magari rispondere ad alcune affermazioni che sono state fatte che credo che però sia importante così non lasciare a mezz'aria la prima no certamente noi abbiamo delle problematiche come banche popolari come grandi gruppi bancari popolari dobbiamo far funzionare strumenti soluzioni principi che sono quelli del voto capitale o della democrazia economica coniugandoli in contesti che sono molto più complessi e dimensionalmente più grandi di prima questo è effettivamente il problema e la sfida che abbiamo davanti come grandi gruppi bancari popolari ed è una sfida importante ma non esiste invece un altro problema o per me assolutamente un falso problema di presunta incompatibilità tra la quotazione in borsa degli strumenti di partecipazione nella società cooperativa e la propria struttura cooperativa ricordiamoci che in borsa oggi anzi non più in borsa ma nelle borse nei mercati perché con la MIFID oggi i mercati si moltiplicano a dismisura oggi sono quotati gli strumenti finanziari più strani e più diversi ma senza andare agli strumenti stravaganti di azioni che non hanno diritto di voto che non hanno proporzionalmente un diritto di voto rispetto al diritto di partecipazione agli utili di colazione di risparmio e la loro quotazione no è un'esperienza che dura da decenni già nel nostro mercato tradizionale non c'è niente di diverso di innovativo l'importante è che chi va sul mercato a comprare uno strumento finanziario ne conosca le caratteristiche e che effettivamente compri quello che viene esitato che non ci sia assimetrie o incomprensioni tra quello che viene comprato e quello che è venduto e che quindi il prezzo sia effettivamente trasparente con riferimento a quello che si compra detto questo io credo che poter avere degli strumenti di partecipazione alla società cooperativa che sono comprati e venduti tutti i giorni su tanti mercati dà comunque uno stimolo a chi governa evidentemente molto molto forte e gli esempi sono quelli di questi giorni certamente su determinate situazioni c'è certo l'intervento della vigilanza ma c'è un intervento continuo del mercato e dietro gli operatori del mercato dell'opinione pubblica dei giornali e di quant'altro quindi evidentemente è una forma di apertura e di trasparenza che io credo dà un qualcosa in più alla società cooperativa non dà qualcosa di incompatibile con la struttura cooperativa ecco questo credo sia molto molto importante sottolinearlo preliminarmente l'altro aspetto che si diceva ma le banche si sono comportate male le banche popolari ma sono un po' la provocazione si sono comportate bene no non si sono comportate magari bene come avrebbero dovuto no le banche popolari nel senso che mi piacerebbe poter dire no siamo stati nei fatti effettivamente diversi la nostra diversità strutturale di scopi la nostra diversità organizzativa si è tradotto anche in un rapporto con i clienti socio e con la generalità dei clienti ricordiamo che noi siamo società cooperativa mutualità non prevalente quindi i soci sono una parte importante dei clienti ma una parte minoritaria ma abbiamo improntato la relazione con tutti i clienti a quello che deve essere la relazione di mutualità con un cliente importante come il cliente socio che in qualche misura è anche padrone non è solo un qualcuno che va a comprare il servizio ma è qualcuno che grazie ai suoi capitali consente all'azienda cooperativa bancaria di vivere e di prosperare di crescere ecco tutto questo certamente potevamo fare di più e potevamo fare di meglio su questo io credo che dobbiamo onestamente dare una risposta anche se ecco io credo che sia importante sottolineare che per certi aspetti alcuni mestieri tipici come quello diciamo di mettere di fare credito e di fare credito alle famiglie alle piccole e medie imprese io credo questo sì lo abbiamo assolto bene il credito alle piccole e medie imprese in Italia io credo grazie anche soprattutto al lavoro delle popolari costa e costato e costa tuttora molto meno di quello che costa in altri paesi a parità diciamo di struttura del prenditore proprio perché questo localismo questa conoscenza questa persistenza di durata dei rapporti questa conoscenza personale oltre che diciamo dei dati di bilancio della piccola e media impresa ha consentito anche di avere dei prezzi che sono sicuramente inferiori a quello che è la media europea sulla gestione dei risparmi delle famiglie ecco questo forse no è un punto in qualche misura dolente non credo che sia un problema di situazioni diciamo oligopolistiche o quant'altro ma diciamo sicuramente il sistema bancario italiano può fare qualcosa di più e di meglio lo sta facendo credo che indipendentemente dai vari stimoli ma si sta veramente organizzando e sta facendo i conti con degli spread che sono molto molto decrescenti rispetto al passato io l'unica cosa che vorrei mettere in guardia ecco stiamo attenti perché su questo punto stiamo attivando molte iniziative molte iniziative di stimolo ma anche molte iniziative coercitive molti interventi d'imperio che cambiano i contratti in essere o le condizioni patuite liberamente oppure che impongono attraverso un continuo intervento per esempio anche da parte di organismi di vigilanza secondo me alcuni aspetti che potrebbero non essere a mio avviso di vantaggio nel medio e lungo termine né dei consumatori né dell'impresa finanziaria mi spiego se un titolo uno strumento finanziario deve essere tutti i giorni liquido è molto difficile creare differenze significative tra quello che è la detenzione dello strumento liquido per eccellenza che è il danaro ne dico una per tutte ma dobbiamo ecco stare attenti perché in questo momento il risparmio ha molti ha molti medici affacendati intorno le autority l'organizzazione dei consumatori il governo la comunità europea tutti intervengono tentando in qualche misura di migliorare o di stimolare una situazione che effettivamente può e va migliorata però ecco stiamo attenti perché in alcuni casi alcune soluzioni non si stanno rivelando delle soluzioni ma potrebbero davvero essere controproducenti grazie allora mi dicono che non qui ma basta alzare la mano e c'è un microfono gelato che gira se qualcuno ha qualche domanda da fare appena vedo una mano alzata poi do la parola se no noi continuiamo con il nostro giro Tarantini è d'accordo con Casero su la debolezza del sistema diciamo la necessità anche della riforma e su che tipo di riforma sicuramente sì secondo me un buon punto di partenza è l'ultima ipotesi che era stata portata in Parlamento e dallo stesso presidente Frattapasini sicuramente cosa va fatta ma soprattutto ripeto sono degli aggiornamenti necessari e che ci sia voglio dire una stabilità perché non c'è cosa peggiore per un soggetto economico di non avere una stabilità normativa detto questo l'unico appunto che faccio a Casero è questa sull'intervento sulle banche che giustamente lui ha spiegato realisticamente gli unici che potevano dare erano le società petrolera io non avrei obiettivamente per le banche non avrei toccato il tema avrei aumentato l'aliquota ma non avrei toccato la base diciamo contributiva perché mettere in moto meccanismi che vanno ad alterare quelli che sono i principi diciamo di una gestione corretta di un'azienda se si crea un precedente molto pericoloso cioè non poter dedurre tassi passive come dire un'azienda che compra petrolio o acciaio da trasformare di non poter portare a costi questo secondo me io avrei fatto avrei scelto più l'opzione aliquota detto questo ovviamente tre questioni flash più che altro per portare un contributo di riflessione il tema del risparmio gestito per esempio qui sicuramente c'è un problema e oggi i deflussi aumentano quotidi giornalmente anche qui si legge di tutto il contrario di tutto io sono convinto che uno dei motivi non è che ci siano dei prodotti che portano in voglia ad andare via dal risparmio gestito è il perché voglio dire la politica del benchmark tutto nei momenti di magra la gente perde e fuggere dal risparmio gestito però stiamo molto attenti a non godere di questo come paese perché se è vero che tanti risparmi perdono valore non dobbiamo non dobbiamo dimenticare che ritornare invogliare andare a comprare titoli di debito pubblico noi abbiamo il debito pubblico italiano e Casero lo ricordava che il nostro la nostra pallarpiede cioè dobbiamo capire da paese moderno e maturo che ogni scelta dei benefici e porta delle conseguenze anche negative non sviluppare un'attività un'industria finanziaria efficiente vuol dire ritorniamo sulla logica del debito pubblico e sappiamo cosa vuol dire dunque voglio dire non è che in passato non c'erano le banche che vendevano i subprime i titoli eccetera eccetera però abbiamo anche il debito pubblico in Italia e questo dobbiamo ricordarlo perché dobbiamo essere consapevoli secondo punto quello che vedo io come problema del nostro paese questa voglia a tutti i costi di eliminare i rischi dobbiamo tutelare tutti io capisco che in un momento di difficoltà la richiesta di tutela aumenta in maniera naturale però pensare che in un'attività imprenditoriale finanziaria possiamo eliminare il rischio perché dobbiamo tutelare risparmiatori vuol dire non mettere a repentaglio quelli che sono i meccanismi di un'economia moderna di mercato su questo io rifuggo culturalmente su tutto ciò che viene definito etico per dare sicurezza perché il massimo dell'eticità di una banca vuol dire far bene il proprio mestiere e vendere al giusto costo quello che fa tutto ciò che fuoriesci da questo io lo guardo con molta diffidenza tenendo presente un dato che il problema delle eccessive regolamentazioni ci portano a noi su una competizione globale ci minano perché siamo molto più deboli da questo punto di vista e non risolvono i problemi tenendo presente che il dato vero di una banca resta quello reputazionale non c'è cosa peggiore per una bianca sapere che si va su un giornale per un fatto criminoso commesso o una cattiva gestione di un risparmio per perdere i clienti quella è la vera sanzione io non dico che non debbano esserci sanzioni di tipo proviste dalle norme però stiamo molto attenti a non pensare sempre che da una parte c'è il cattivo e dall'altra parte c'è la vecchietta che viene derubata non è così nella mia esperienza non è così tantissime vecchiette sono andato a sbobbinare le registrazioni tali non erano tali non erano non fomentiamo questo e non permettiamo di pensare che dobbiamo tutelare tutti dobbiamo soltanto rendere consapevole e ben informato il risparmiatore del sapere che il costo è commisurato il rendimento è commisurato un rischio e il sistema bancario deve porsi un problema sulla sua efficienza un ultimo punto quello che secondo me manca a noi oggi e forse da questo punto di vista il sistema che meno ne soffre le popolari perché come corpo quantomeno abbiamo una nostra rappresentanza e una discussione all'interno c'è stiamo molto attenti perché noi subiamo teorie concetti culture che sono completamente strani al nostro modo di essere alla nostra storia noi dobbiamo riprendere questo e non vergognarci perché essere popolari fra virgolette non solo non è qualcosa di rudimentale che appartiene al passato per me sarà un fattore di modernità questo sarà un fattore di modernità per le banche popolari un fattore già da adesso di competitività perché necessariamente ci sono alcuni gruppi bancari che la loro struttura di ricavi devono cambiare la stanno cambiando devono andare verso processi di standardizzazione un po' perché spinti dalla normativa ma soprattutto perché per le loro dimensioni e le loro vocazioni internazionali dunque il valore della relazione umana non è qualcosa che appartiene al passato sarà il futuro e per noi sarà oggi un fattore di competitività rispetto ai grandi gruppi ma in futuro ci sarà voglio dire questo sarà un fattore di modernità dentro questo dobbiamo sapere che le banche soprattutto le popolari hanno nella loro natura hanno due fattori che danno garanzia al sistema non portano conflitti di interessi per loro natura non possono avere conflitti di interessi l'idea del voto capitario toglie alla radice questa possibilità secondo problema secondo fattore importante delle popolari che se non crescono le loro aziende le aziende intorno le famiglie si impoveriscono impoverimento mentre le grandi gruppi risentono se il pil non cresce di un paese per noi è fondamentale il posto dove siamo abbiamo un interesse tenendo presente che abbiamo una normativa che risente di una cultura che è completamente diversa da questo noi oggi siamo credetemi io ricordo nella mia breve esperienza nove anni fa si dedicava l'80% del tempo consigliare a parlare di business di fatti da fare oggi il 90% parliamo di compliance se siamo compliance alle normative i controlli l'audit i controlli l'audit sì ma dobbiamo anche guadagnare non è che possiamo guadagnare solo i controlli le banche le stiamo caricando di pesi eccessivi ripeto che non sono minimamente funzionali a una difesa una vera tutela del risparmiatore da questo punto di vista abbiamo un gap culturale europeo da un certo punto di vista perché la Mifid che ricordava Frattapasini la Mifid è un esempio di questo è un esempio di un qualcosa che non appartiene il problema dei nostri principi contabili qualche studioso dice se non ci fossero stati i nuovi principi contabili internazionali tante questioni finanziarie non sarebbero venute fuori questo problema bisognava porlo prima come dibattito e questo per troppo non è un dibattito che possiamo lasciare alle burocrazie europee o ai grandi studiosi questo è un buon argomento che deve diventare popolare perché i soldi il risparmio è ciò che condizionano la nostra libertà le nostre scelte come famiglie piccole e medie imprese non dobbiamo farlo diventare un fatto da solo 24 ore questo è un fatto popolare come sapere quanto costa un chilo di mele deve diventare un fatto popolare una discussione su ciò che vuol dire questo vuol dire riscoprire una tradizione che ha fatto grande il nostro paese se questo non c'è demagogia non sono io rifugo da queste cose qui dico soltanto che noi dobbiamo non possiamo più subire questo ma sia a livello europeo ma ancora di più a livello italiano dobbiamo in qualche modo dare un colpo di reni perché culturalmente dobbiamo difendere questo aspetto qui se non ci sono i presupposti culturali di una ripresa dopo quelli che sono i dati normativi vanno vanno a seguire si fa fatica a fare un articolato quando non c'è una cultura che è capace di capire il senso e il valore di quello che si sta facendo ahimè tutta questa materia vi ricordo solo un dato e chiudo quando faccio lezioni all'università ricordo i ragazzi noi abbiamo cambiato modificato il libro quinto del codice civile completamente su dettame comunitario noi abbiamo cambiato il nostro codice dell'economia direttamente dove non c'è stato un intervento un dibattito vero serio a livello parlamentare italiano noi facciamo la nostra comunitaria ricepiamo dentro di tutto le autoriti sempre di più ribaltano il problema sugli operatori non ultimo di questi giorni noi dobbiamo calcolare all'interno di Basilea 2 abbiamo il famoso secondo pilastro che è il LICAP LICAP vuol dire il capitale che voi ritenete noi operatori dobbiamo dirlo l'autorità ci dice non ve lo dico io mi dite voi quale è il capitale che ritenete utile per poter svolgere la vostra attività garantendo stabilità al sistema guardate che per chi opera all'interno una cosa molto complessa il problema dell'over regulation dell'eccessiva normativa induce all'interno del sistema bancario delle difese impossibili da comprendere io questa è una fatica che vedo quando se lei porta e dice un consigliere guardate abbiamo abbiamo cinque norme se le facciamo tutte cinque siamo tutelati però non facciamo altro è come dire facciamo una costruzione per non farla cadere non facciamo le stanze facciamo tutti i muri peccato che non ci siano le stanze non importa però facciamo tutti i muri la tendenza dei consiglieri in primis e dopo della struttura all'interno è quello di fare il massimo perché la cultura è quello di eliminare ogni possibilità di rischio se noi introduciamo come concetto che il rischio è come l'idea del fallimento che io da anni continuo a dire noi siamo l'unico paese che quando uno fallisce con un'impresa è un farabutto per sempre chi non fa nulla e non sbaglia nulla è meno penalizzato perché queste cose qui invece non le impariamo dai sistemi anglosassoni negli Stati Uniti dove il fallito è comunque viene visto con un occhio positivo perché ci ha provato noi abbiamo questa cultura che è veramente maledetta da questo punto di vista dobbiamo stare molto attenti perché dobbiamo ricostituire soggetti forti capaci in qualche modo di richiedere libertà al mercato e debbano esserci regole che devono essere poco chiare e che non siano palliativi per riempire una grande demagogia che sulle banche ormai è diventata è diventata una degli sport più importanti insieme al calcio parlare male delle banche grazie e però a bella difesa una bella bandiera innalzata per il sistema bancario io poi mi ricordo tanti anni fa a un comitato abbi era il periodo in cui le banche non andavano così bene come adesso e c'erano in corso delle grandi ristrutturazioni bancarie quindi del taglio di costi uno dei principi ci fu una riunione dedicata al cosiddetto costo cortesia perché le banche perdevano troppo tempo a stare dietro alla vecchietta allo sportello al cliente eccetera e questo era un costo eccessivo e si cercavano soluzioni per tagliarlo e forse poi magari tagliando quel costo si diceva facilmente di investire nei titoli di Stato argentini e non si spiegava poi così bene il rischio purtroppo il sistema bancario ha anche numerosi casi di questo genere che sono diventati eclatanti e che poi diventano il giudizio sul sistema anche a livello internazionale poi vediamo che è vero che c'è un eccesso magari di regolamenti e di attenzione su quello che è successo ma è anche vero che ricominciamo ad avere i primi casi in cui quello che è successo si ripercuote sulla comunità diventano di nuovo nazionalizzate alcuni istituti bancari nel mondo dopo aver sventolato la bandiera del liberismo quindi poi un diritto anche degli stati e dei governi a regolamentare a protezione del soggetto più debole c'è perché le popolari verranno regolamentate da questo governo io volevo due cose su quello che diceva prima Tarantini che poi hai ripreso tu con la tua nota perché in realtà parliamo di un settore sensibile molto sensibile in una società moderna e strategico sia sugli successi economici che sui successi e gli insuccessi dei singoli risparmiatori allora vedete finché noi non riusciamo ad avere un paese in cui io lo dicevo l'altro giorno in un dibattito a Gelmini un po' di cultura economica è masticata da tutti quindi si deve anche insegnare nella scuola cioè in questo momento gli italiani sanno ben poco delle basilari regole di finanza che tu citavi per cui noi siamo un paese in cui mi sembra così erano 3 milioni di italiani che hanno comprato i bond argentini che chiunque sapesse un milione di finanza sapeva che tu dicevi c'è il rischio davano il 12% e quindi erano a rischio uno sapeva che ci potrebbe essere rischio di default purtroppo chi li aveva comprati questo assolutamente non se lo immaginava perché poi se voi andavate a vedere chi era che li aveva comprati era una parte che non conosceva allora finché c'è un paese così c'è un paese di risparmiatori che non è ancora perfettamente alla conoscenza non dico di regole di finanza complessa ma di regole basilari della finanza le banche devono svolgere e lo diceva prima bene il presidente Fatta Presini un ruolo fondamentale non tanto per lo sviluppo oltre che per lo sviluppo delle imprese quindi per tutta la parte delle imprese anche nel rapporto con i risparmiatori e possibilmente nel rapporto con i risparmiatori devono avere sia un'azione rivolta alla economicità massima ma anche è sbagliato usare la parola etica io ti do ragione se usa troppo in questo paese ma al fatto che ci deve essere unito il fatto di maggiore economicità e sviluppo del reddito di imprese al fatto di un minimo di un'azione possiamo chiamarla morale per cui le stesse banche non devono uno piazzare dei titoli a rischio due ma vi dico una cosa che è corretta e il caso poteva essere non corretta ma in questo caso correttissima ad esempio fare molto reddito piazzando le proprie obbligazioni i propri titoli cosa che invece le principali banche fanno queste cose esistono andate in qualsiasi sportello bancario fondamentalmente vi cercheranno di piazzare qualcosa alla banca stessa una cosa corretta però è una cosa che sicuramente non fa sviluppare il mercato non porta al massimo della reddittività per il singolo risparmiatore e così via allora in questa logica è logico che queste cose non si fanno con delle rivoluzioni che durano un mese con delle cose lunghissime che richiedono tutta una serie di percorsi ma esistendo una situazione come questa quindi in Italia con questa situazione io prima ho citato il discorso dei mutui a tasso variabile che era stata fatta in Italia negli Stati Uniti è stata fatta sul subprime cioè erano state fatte delle cose che sicuramente quando uno io ho letto come tutti voi le interviste degli americani che avevano comprato il subprime con la signora che dice io guadagnavo 3000 air 3000 dollari al mese avevo una quota mutui da 4000 da pagare dice ma chi gliela ha data ecco allora e quindi non è questo un caso italiano io dicevo finché esiste una situazione in questo caso così in cui le basilari regole economiche non sono percepite dal risparmiatore deve essere fatto anche un minimo di azione di indirizzo dicevo dentro certi binari per far sì che queste cose poi non ritornino sulla comunità perché poi questi casi alla fine in buona parte sono tornati tornano sulla comunità negli Stati Uniti hanno nazionalizzato qui vengono fatti degli interventi si ipotizzano degli interventi a sostegno dei risparmiatori che hanno perso i soldi e così via allora in questa logica io dicevo noi dobbiamo cercare di fare una riforma a questo punto parliamo della parte positiva del risparmio e delle popolari che cerchi di esaltare al più possibile i punti di forza delle popolari perché giustamente come si è detto in partenza per una serie di ragioni io penso storiche che poi sono intervenute nella mentalità del gruppo dirigente che sono state trasferite via via a tutte le varie agenzie e filiali le popolari hanno un'attenzione poi chiaramente complessivamente poi dopo bisogna andare i casi specifici sono ad essere diversi però complessivamente più forte nei confronti delle piccole e medie imprese e nei confronti dei risparmiatori più forte che non le altre banche potremmo scrivere dei libri sul perché però è così allora in questa logica secondo noi questo è uno dei punti di forza e su questo si deve far sì che esista un sistema poi di regolamentazione che far sì che esalti questo ruolo quindi si passa a partire da quello che è stato presentato e queste cose possono essere portate avanti sapendo che questo è l'obiettivo principale e poi ci discuteremo su governance e tutte queste cose perché poi giustamente lui ha toccato bene un aspetto dice andare a New York e dire che una banca molto importante italiana è controllata dai dipendenti è una cosa che può essere capita a livello mondiale è controllata dai sindacati è capita un po' meno però in questo momento la situazione è così quindi dobbiamo vedere anche su questo come dicevo intervenire per valorizzare il sistema senza scassarlo e senza fare dei danni su una cosa che invece complessivamente va bene poi per il fatto che noi siamo potuti intervenire in questo momento ritorno alla Robin Hood Tax anche sul settore bancario vuol dire che comunque in questo momento fortunatamente il settore bancario italiano è un settore è un settore è un settore è un settore bancario forte io devo dire che ho passato anni e lo facevo come una riflessione negli anni un po' di anni scorsi a parlare della retratezza del settore bancario italiano che non utilizzava strumenti di alta finanza e di finanza estrema e era indietro nei confronti di banche anglosassoni quello che sta avvenendo in questi giorni in questi ultimi mesi ci porta quando dicevo dobbiamo fare delle riflessioni ci porta al fatto che comunque dobbiamo riflettere e dobbiamo cercare di determinare queste situazioni economiche questi settori economici a secondo delle esigenze e delle necessità del paese che sono fondamentali fondamentalmente per lanciare lo sviluppo e la ricchezza di tutti questo è l'obiettivo prioritario e secondo me su questo dobbiamo lavorare anche su questa riforma insomma grazie Casero insomma se riforma farà il governo perché non è chiaro se farà una sua proposta di riforma non la farà per decreto prima dicevo quando ho detto in questo momento abbiamo delle priorità maggiori che come vedete stiamo affrontando giorno dopo giorno oggi una delle seconda la seconda grande priorità dopo i rifiuti di Napoli penso che si sia affrontato e messo in su una strada il la possibile salvataggio di Alitalia che è un'altra delle grandi problemi che avevamo in questo momento del paese e il problema dello sviluppo economico proprio perché da questo punto di vista cioè il discorso delle popolari è una cosa che ci permette di riflettere affrontarla con un minimo di calma io penso che su questo debba essere fatto un grande un buon dibattito una buona riflessione poi si possa arrivare a una buona riforma cioè non debba essere affrontata con un decreto legge immediato e così via ma si possa dare il tempo necessario giusto per spot lascio la parola fatta a Pasini questo è rassicurante ma questo credo che sia scusate normale che le leggi le faccia il Parlamento e non il Governo quando si parla di credito e di credito popolare le leggi di riforma credo che sia in un paese normale in qualche misura abbastanza scontato non è materia dove si interviene per decreto credo che sia giusto sia rassicurante una cosa cioè che ci sia comunque la consapevolezza che si agisce su una parte del sistema che mostra risultati positivi che è in crescita che è viva che è molto diversificata al proprio interno quindi lo strumento normativo mi avviso sarà più che altro deve consentire dei range all'autonomia statutaria se noi immaginiamo di mettere una camicia uguale per tutti a delle realtà che hanno dalla popolare monosportello con due o tre sportelli a grande gruppo bancario popolare con due mila sportelli è quello che può diventare un camicione per alcuni e una camicia di nesso per altri quindi bisognerà avere una normativa che sia improntata alla flessibilità che faccia proprio perno sull'autonomia statutaria ma se mi è consentito anche può aggiungere io credo questa giusta prospettiva cioè qui si tratta proprio a mio avviso non tanto di snaturare o ibridizzare o rendere meno diciamo inserire elementi della banca costituita come S.P.A. nell'ambito dello statuto delle banche popolari questo approccio a mio avviso sarebbe dal punto di vista normativo e anche dal punto di vista popolare un approccio perdente non è diluendo la diversità dicevamo prima se io ho qualche rimpianto è che la nostra diversità non sia venuta fuori con chiarezza con lucidità ma è un problema che le popolari si portano dietro già dalla loro nascita dopo vent'anni già luzzati scriveva nei congressi delle popolari dobbiamo andare a riprendere la nostra lega di popolarità e lucidarla non è più non brilla come brillava diciamo fin dall'origine è una tradizione antica non possiamo limitarci a riempirci la bocca di questi principi e non farli diventare dei comportamenti dei comportamenti concreti però detto questo credo che anche noi popolari abbiamo una grandissima opportunità proprio nel momento in cui l'economia sociale di mercato torna di moda in cui l'approccio alle tematiche economiche e quelle finanziarie non è più quello diciamo che ci è stato imposto da altre culture quando vengono fuori in modo drammatico i limiti di quelle culture e di quelle soluzioni beh io credo che noi possiamo rappresentare un modo di far banca un modo sostenibile di far banca un modo di far banca in armonia con la comunità territoriale nella quale l'attività bancaria si inserisce che è una grossissima chance e noi non abbiamo bisogno di scomodare concetti di interesse generale o visioni neocorporative dell'attività bancaria per mediare tra l'interesse singolo dei nostri azionisti e l'interesse di carattere generale noi siamo delle comunità delle imprese di comunità delle imprese civiche delle somme di banche locali per noi è naturale perseguire un profitto certamente di una remunerazione di chi ci mette a disposizione il capitale che tra l'altro è anche il nostro cliente in armonia con il servizio ai clienti dei territori io dico noi abbiamo veramente una chance in più di poter fare banche in modo sostenibile e questo non vuol dire che abbiamo un vantaggio strutturale non è vero non esiste no nessun modello ha dei vantaggi in sé sono solo gli uomini e la loro capacità di coniugarli giorno per giorno che fanno poi prevalere però abbiamo una grande opportunità abbiamo un modello che è nato da più di 140 anni che è perfettamente in armonia con quello che è oggi sentire diciamo dei consumatori con quella che è l'espressione anche con il sentire dei rappresentanti degli interessi pubblici dei rappresentanti politici che oggi ci viene portato avanti è una responsabilità ulteriore in più per il credito popolare una sfida importante credo che noi siamo pronti e determinati a raccoglierla grazie io ringrazio il presidente Frattapasini ringrazio Luigi Casero e Graziano Tarantini e ringrazio soprattutto voi che siete stati fin qui con noi abbiamo iniziato sul credito popolare e finito per fortuna sul credito popolare abbiamo parlato e affrontato per forza anche il risparmio il tema del risparmio popolare su cui potremmo continuare ancora per ore grazie a tutti e buon proseguimento qui al meeting